Finita l'Under 14 abbiamo la Sirica Under 16 che gioca contro il Librino Under 16 quindi sempre a San Teotoro. Le squadre sono schierate in campo poi facciamo un po' di ripresa fino a quando si può perché poi c'è la senior che va a giocare da Mr. Bianco e la seguiamo. Le squadre sono schierate. Un'ultima raccomandazione. Un'ultima raccomandazione. Un'ultima raccomandazione. Le mando in privato. di che manda anche le mie il siraco non si era la vostra sinistra ricordiamo pagliettina rossa e calzoncini neri pantaloncini neri e calzoncini rossi ecco l'actile siraco e qua abbiamo anche il librino palla battuta dalla siraco mariano il papà di mariano e il tuo padre Oh, quando si è morto? Non è. Bravo Matteo! Calma persa. Ancora. Bravo Matteo! Bel placaggio, bel placaggio. Grandioso. Attenzione! Calma, calma. Silenzio. Abbiamo la mischia. Ah, vengono i figli. Ah, mai che non si rimbacchiava. Alza con il getto! Buona, buona! Particiamo! Niente da fare. Se torna il centrocampo. La squadra. Ce ne sono una serie? Sì, sì. C'è la Brava. E anche Marcella. No, dai, Cardi e Ganci vanno con i figli. Cardi e Ganci vanno con i figli. Poi Dennis è con me. Eh, uno no. Dai Umba! Ora, ora, Dario! Aspetta, sei da una nazione. Siamo da una nazione. Allora, abbiamo preso la palla. Poi ci mette un poteco? Non vanno! Ma cos'è fermo? Candi! Scelta per lavora l'acqua. Eh? L'acqua. L'acqua è il campo, eh. Vai, fatti, dai da Leo. Scendi e inizia le attivate. Non ci andiamo dopo l'interessante. Non lo sa, devi parlare qua. Non lo sa, devi parlare qua. Non lo sa, devi parlare qua. Però ora ti ho potuto piazzare qua. Chi stai i ziti? No, non lo sa! Vai, 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 vai che buona! Iniezione, dai! Poi la fuori. Che c'è? Abbiamo una douche per l'alibrino, la battita è quasi scarica. Abbiamo una mischia. 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 Vediamo questa douche. Abbiamo una mischia. Abbiamo una mischia. Abbiamo una mischia. Prendiamo la mischia. si si ferma ferma prendiamone questa palla bravo sono i giocatori giochiamo in tush il proteggio non si è sbloccato ma c'è l'albero libero andiamo attenzione 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 calma giote guardate 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 attenzione quando siamo pronti non lo dici Ricordiamo che questo è assaltanto un nome del fido ufficiale che non c'è l'arbita un allenamento fra le due squadre il giocatore è libero andiamo fuori torno indietro vediamo se viene fermato il giocatore mischia il centrocanto le due squadre oale è in possesso della Siraca il giocatore è in possesso della Siraca è in possesso della Siraca il giocatore è in possesso della Siraca l'hanno fermato pensavo che andasse in meta no no dove ci sono i birilli l'hanno fermato in tempo per pochissimo è sembrano in meta in effetti ci vuole bordaline ci vuole allora come è non l'ho seguita bene l'azione è la meta allora eh sì sì i birilli sono là sì sì sembrava di nuovo sembrava meta per il librino vediamo se riesce a trasformare l'azione del librino saliamo l'azione del giocatore del librino allarghiamo fuori ok 5-0 per il librino in una meta la Siraca torna a centrocampo forza grazie ora c'è la palla l'introduzione per la Siraco 11 Siraco la palla è fuori la palla è fuori un balzo della palla favorisce la Siraco questo è allenamento sì l'introduzione per la Siraco spingi Siraco la palla è passata fuori passiamo avanziamo giocatelo 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 la palla la palla è fuori calza 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 chi è? ha attascato la bia? no c'è c'è stato un contropiede della Siraco che purtroppo non è bella azione di Josef buona Stefano accuttivo vieni riuquiamo ma i panini come sono? uno con prosciutto non lo so una stafata si ha lasciato sono due vediamo questa tush la Siraco dove sono? abbastanza c'ho il sole contro quindi a volte capita che non vedo bene dove è l'azione e questa è la fregatura vieni vieni vi c'è portate da somma eh ho il figiamo bloccate poi gilano busciamo questa palla stai scendo ci scendo nuori la palla no no così perché così tira la palla si passa recuperiamo recuperiamo così il testario Joseph ha visto che ha fatto succedere come sta come sta come sta come sta come sta ma guardate ci stiamo vedendo il soldo le persone pagano per prenderti l'appronzatura e tutti la vendono e siamo a novembre mischia vediamo ho fame ho fame ho fame ho fame ho fame ho fame quando faccio così scusate mi devi provare se così è fuori vai picanti vieni calcela calcela vieni faccio così faccio Si vuoi che venga devi suonare. Le gambe! Di sotto Briganti! Avriano occhiappetti! Avriano Daviano! Vai Denis! Grandioso! Briganti di sotto! Forza Briganti! Ma guarda! Si possiamo muovere così che c'è! Briganti salite! Salite Briganti! Vai Silago! Vai Silago! Aiutatelo! Vai Silago! Forza! 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 No! Giochiamo questa palla! Forza! 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 Non si è finito il primo tempo! Si! Passiamo mezz'ora! Guardate che cosa porta! Non lo vedo poi qua! Forza! Stop! 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 Stop!